Bel posto, questo qua è sempre in mezzo al verde, io sono molto affascinato dai posti dove c'è la natura, e qua si vede perché ci passeggio, sono proprio su dei bei posti, mi piace andare lì, insomma osservate il panorama, e in questi posti un po' particolari sicuramente, che non si vedono in molte abitazioni dove voi abitate, in questi posti ci sono occasioni di vedere oltre a spettacoli molto particolari, anche di incontrare energie particolari che le sentite, le si possono sentire sia i sensitivi e anche chi lo è un po' di meno, ci si abitua, si passeggia in mezzo a posti del genere e ci si concentra, anche senza concentrazione, si possono notare delle cose molto particolari, quindi vi invito a chi ha voglia di andare in posti del genere a incontrare energie angeliche, perché io sono appassionato di angeli, provate, provate, comunque va bene, organizzo anche io delle cose, esperimenti, cioè esperimenti tra virgolette, nel senso incontri per provare queste energie. Vi aspetto alle prossime cose che organizzerò. Ciao!